Buongiorno a tutti. Ho ricevuto dal Presidente della Repubblica il mandato esplorativo nei termini già espressi dal comunicato. Ho ringraziato per la fiducia accordatami il Presidente Mattarella che terrò costantemente aggiornato. Intendo svolgere questo incarico con lo stesso spirito di servizio che ha animato in queste settimane il ruolo di Presidente del Senato. Sarete informati del calendario degli incontri che avverranno in tempi molto rapidi. Grazie.